Ciao amici di Play Latina Web TV, siamo Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance di Ravenna, una scuola di balli caraibici e non solo. Cominciamo a farvi vedere i primi passitos, quelli diciamo un po' più semplici. Il primo passitos che vi vogliamo mostrare chiamasi 3-3. Passo la parola a Loretta. Ok, intanto quindi in questo caso, come mi sta suggerendo Claudio, anche noi signore donne partiremo con la gamba sinistra, per cui faremo tutti i passi da uomo. 3-3, quindi partendo tutti quanti con la gamba sinistra andremo a fare un incrociato avanti, 1, al tempo 2 apro e al tempo 3 vado a rincrociare con la mia gamba sinistra avanti. Quindi l'esecuzione sarà 1-2-3. Stessa cosa andrò a ripetere con la gamba a destra, sfilandola, 1-2-3. Base da uomo, quindi 1-2-3-5-6-7. Andiamo a ripetela, facciamo prima una base mambo e poi l'esecuzione del mio passo 3-3. Facciamo un passo indietro Claudio, 5-6-7 base, 1-2-3. 5-6-7 base, 1-2-3. 5-6-7. Eseguiamo la stessa cosa dandovi la schiena e controllate così i nostri piedi, sempre prima la base check, base mambo, 1-2-3-5-6-7. Via, 1-2-3-5-6-7. 7 base, 1-2-3-5-6-7. Ok, abbiamo visto il primo passito, semplice, speriamo che lo sia anche per voi. E che dire, ciao ciao!